difendendo uomini che sono vessati psicologicamente dalle donne. Quante donne in situazioni matrimoniali abusano invece delle minacce che non hanno o di violenze che loro non hanno ricevuto? Ve lo chiedo perché questo è un pezzo del problema, perché se le forze dell'ordine magistrati non credono tante volte è perché tante volte forse... Ve lo chiedo però, non voglio fare adesso il... cosa dite un sessista? No, no, purtroppo è così, dottoressa Mattone, purtroppo è così. Io per anni ho difeso soprattutto le donne, avevo il 90% di donne nello studio. Ora sto difendendo uomini che sono vessati psicologicamente dalle donne. Sto difendendo uomini che sono vessati psicologicamente dalle donne. Sto difendendo uomini che sono vessati psicologicamente dalle donne. Perché è vero che ci sono 100 uomini schifosi assassini... Sto difendendo uomini linguare a non sembra unlare... Grazie.